Chiude l'asilo Bassetti di Carciano per mancanza di iscritti. Una brutta notizia per gli stresiani. Alcuni genitori hanno dovuto correre ai ripari all'ultimo e trovare un'altra scuola per i propri bambini. A sollevare il caso era stato il gruppo Progetto Comune di Marcella Severino. Come gruppo di minoranza, spiegano i consiglieri, abbiamo anche noi un rappresentante all'interno del Consiglio dell'asilo Bassetti che insieme al rappresentante dell'attuale amministrazione comunale presenziano il Consiglio Assemblea dell'Asilo. Il nostro rappresentante per l'anno 2018 non è stato convocato per alcuna riunione o alcun consiglio a quanto pare avvenuto e non eravamo a conoscenza della così grave situazione. Sulla situazione dell'asilo è intervenuta anche l'amministrazione comunale estresiana che spiega di aver incontrato la direzione dell'asilo che ha ufficialmente comunicato la momentanea sospensione dell'attività a causa della drastica diminuzione delle iscrizioni per il corrente anno scolastico. Prosegue la nota. L'amministrazione, recependo tale situazione, si è prontamente attivata al fine di valutare di concerto con la direzione dell'asilo soluzioni alternative che possano garantire il proseguo dell'attività anche diverse dall'attuale ma sempre in favore dei più piccoli e l'utilizzo dell'immobile alla luce delle finalità istitutive e statutarie dell'asilo Bassetti. Grazie a tutti.